Incidente questa sera, venerdì 15 dicembre, poco prima delle 22.30 è in via circonvalazione a Nole. A scontrarsi un Opel Mokka condotta da una donna di Nole e un Opel Agila con a bordo un giovane. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Mokka stesse svoltando verso il centro di Nole quando è giunta l'Agila che la tamponata. La dinamica esatta è il valio dei carabinieri giunti sul posto. Il giovane è stato estratto dalla lamiere dell'auto dai vigili del fuoco volontario di Nole. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso di Cirie, non dovrebbero essere in pericolo di vita. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.